Un nuovo disco, una raccolta di brani fra i meno suonati ma tra i più belli di Enzo Iannacci. Il titolo è l'artista e l'artista vero Iannacci lo è stato, sangue pugliese per merito del nonno Vincenzo emigrato a Milano da Bisceglie. Nel CD ma anche nel vinile ecco un inedito desolato, splendido duetto rap con JX degli articoli 31 per un video mandato in onda per la prima volta proprio in occasione della presentazione. Un video affascinante girato a Milano e dove appaiono in qualità di ospiti fra gli altri anche Caparezza, Claudio Bisio, Ale Franz, Fabri Fibra, Giovanotti e Ligabue. Spero infine che tutti quelli che ti vogliono bene alzano il volume e la tua splendida voce possa riempire le loro case di gioia, di amore e di grandi emozioni. Ciao papà, tu e sempre papà. In sala tanti volti commossi e un lungo applauso per ricordare il cantore di Milano. La voce di Enzo non è mai stata così potente, così emozionante e così forte come in questo disco. Fare il video come è stato? Beh, divertente, l'abbiamo fatto ahimè già senza più Enzo, però così, con allegria. Enzo è arrivato e si è trovato come uno di noi, io non mi sono dovuto calare niente, non è che ho dovuto, oddio, mettermi la gioca come una sommessa oggi, Enzo era uno di noi. Si è trovato subito in sintonia, abbiamo scritto come scrivo con i miei amici. Una cosa speciale è ascoltarlo, interpretare queste storie, queste cose a volte surreali, a volte invece molto realiste e quindi sono orgoglioso di poterlo offrire a tutti.